Ciao amore, buongiorno. Hai dormito? Sì, tu? Io sì amore, ero stanco, ho dormito come un ubbiero. Buongiorno. Ti sta avviso eh? Qua non si dorme più fino alle due del pomeriggio. Ma io non ho mai dormito dalle due del pomeriggio. Se non è le due, fino a mezzogiorno hai dormito tutte le mattine, perché ogni volta che ti chiamo dalla Sicilia dormi sempre a quest'ora. Adesso qua voglio vedere la luce dello signore, non un tummortuodio. Andiamo a aprire, andiamo a respirare, andiamo a fare tutti i batteri e cose. Ah, Navi, che bella giornata oggi, bellissima. Bella, bella. Guarda che sole. Bella. Sangue di Dio! Ma ci ha combinato qua! Pure il tappalena è scassato, tutto scassato tutta la sua casa. Devi collegare il filo con la maniglia della finestra, così tiene. Quale filo? I cristiani hanno le cose con il telecomando, che vanno sulle tapparelle, come a fare tutto questo giro così che vanno a pulcicchiare pure noi insieme. Sangue di Dio e tutti i santi, Damiano. Sulla maniglia. A mano a mano. Così le vado a mettere. Non è più possibile, eh. Non è più possibile, cara. Non è più possibile, Charita. Io ho lasciato una casa che era una reggia, non la sto riconoscendo più. Tutta demolita, tutta scassata. Prendi tra con quell'altro. Sono più mure intatti, sono più mure. Prendi tra con quell'altro. Allora signore, bello, bello fresco, no? Ha nascito tutti i batteri, tutti i virus. I polmoni stanno a prendere in questa casa. Ok, come va.